In un regno non morto, vivono degli eroi, si chiamano Franco e Francesco, che insieme I loro amici fanno avventure, di divertire con gli universi versi, di divertire con gli universi versi La 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 la, in cui c'è stato tradito Mauro e Padri cattivi, e Mochi e lui insieme ai suoi amici cattivi Ora Paolo è nervoso e quindi vuole che facciamo arrivare dei cuocini buoni Gli universi parteciperanno anche i cartoni animali Gli universi Creato da Franco e Francesco Dentro il videogioco Parte 2 Allora vediamo se troviamo qualche fantasma Per ora niente, giusto? Ah ah Per ora le cose proseguono in modo bello limpido Oh oh, ho visto qualcosa No, non hai visto niente, hai visto solamente una carota Che cosa era quella cosa? Boh, una carota volante Sicuro? Non esistono le carote volanti Secondo me era uno dei fantasmi C'eriti pronto EzoFolg Oh oh Ma è troppo veloce, non riesco a prenderlo Troppo veloce Dai adesso, spara adesso Enzo No, non ho fatto in tempo Lo abbiamo preso Sì, ma chissà dove è andato a finire Bravo Francesco Ma volevo dire, ma chissà dove è andato a finire Allora ragazzi, voi avete trovato dei fantasmi? No, non abbiamo trovato niente Oh, c'è un fantasma Aia Dai su ragazzi, picchiamolo No, il fantasma l'ho preso Dai Nino, liberalo Io non ti abbandonerò mai Io non ti abbandonerai Io non ti abbandonerò mai Perché ti amo Ti amo anch'io Beh, l'amore è sempre bello Oh, l'amore ha sconfitto il fantasma Ok, torniamo da Franco e Francesco Franco, Francesco, abbiamo catturato un fantasma Sì, anche noi Aspetta, com'era il vostro fantasma? Era arancione, sembrava una carota volante Anche la nostra era E allora era lo stesso fantasma Qui ce ne sono tanti, sono tutti uguali No, papà, ma che cosa Ma che cavolo hai capito? E il tuo foglio per sbaglio la Ah, forse non è riuscito a catturarlo E l'ho attirato lontano Sì, credo proprio di sì Sì Ok, giochiamo ancora Ok Dai ragazzi, proseguiamo con il nostro cammino Ma prima, chi ha parlato? E ancora Darwin? Cosa vuoi Darwin? Aiutaci ad uscire da qui Eh, cosa? Ma come fa a venire la voce da qui? Si sente con il microfono Francesco Francesco, l'attopolo non ha ragione Fa schifo Si, hai ragione Adesso andiamo Andiamo Andiamo, dai Ok Ok Allora Anche per questa volta Ok Adesso sapete dove dobbiamo andare? Su, su, sempre più su Ok Adesso dobbiamo Sì, non è la cima dell'hotel Adesso dobbiamo andare dal Dal fantasma rosso E il fantasma Blu Blu Ok Andiamo Ok, siamo arrivati E dove sono questi fatidici fantasmi? Come di nuovo Dividiamoci Dividiamoci di nuovo Va bene Comunque papà Comunque papà Lo so che Lo Lo so che Potrebbe essere strano Ma Stiamo facendo questo episodio Prima di all'estate Secondo Non so Ma poi lo pubblicheremo dopo Dopo quando? Quando uscirà la nostra nuova serie Si Va bene A parte queste cavolate Andate Va bene Va bene Andiamo 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 Dai su forza ragazzi Vogliamo andare? Si Andiamo Allora 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 Sono loro Sono i fantasmi Dobbiamo fatturarli Sì Oh oh Aia Papà Ti sei fatto male? Si Oh no Papà È morto Ecco Sono tornato Dai Dai Penso Prendilo No Mi gira la testa Catturatelo voi non posso continuare così Enzo Forchi è svennito come nell'episolo 13 è svennuto come nell'episolo 13 e dai Francesco prendi tu il portergeist così lo prendiamo i fantassi ok però c'è un problema quale? l'ha mangiato no non è vero dai e va bene ecco qui il portergeist vale adesso l'abbiamo preso evviva uno è andato l'altro è scappato dai nostri amici li abbiamo persi buttiamo il porter papà ok dove sono i fantasmi sono da due ore giusto? giusto guarda sono caduti i tuoi fantasmi nel portergeist Karen investiti così così li sconfiggiamo e va bene va bene però non c'è bisogno di gridare lo sai? si si dai spiegati oh li abbiamo sconfitti anche questi due le abbiamo sconfitti franco francesco li abbiamo sconfitti si noi li abbiamo indeboliti e voi li avete sconfitti gravissimi e che cosa è successo? abbiamo sconfitto altri due fantasmi meno male ok 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 adesso dobbiamo proseguire dobbiamo salire sempre più su ok ti faccio vedere allora ma dobbiamo andare dallo scheletro dal fantasma viola ok ancora più su oh oh ma questo è quello che che appare scompare me lo ricordo in Luigi's Mansion si papà me lo ricordo anche io ma dove siamo ma perché siamo qui? ti dobbiamo salire sempre più su per arrivare ma siamo arrivati ma siamo arrivati ho detto mmm ok dividiamoci ok come al solito io mi metto dentro la bocca di Alzovold e loro tre vanno dall'altra squadra va bene? va bene ricevuto ecco qui ok andiamo? andiamo qualche ora dopo perché non riusciamo a trovare niente? perché questo è uno di quei fantasmi che appaiono e scompaiono eccolo dove è andato? e dobbiamo beccarlo mentre mentre appare oh non ce l'ho fatta spara adesso spara adesso spara adesso se n'è andato? perché mi guardi in quel modo? la prossima volta che appare lo prendiamo ma perché mi guardi in quel modo papà? non ho fatto nulla di male dai dai eccolo l'abbiamo preso dove è andato? adesso il volga gli è caduto il portalgeist non ti chiedi di nuovo? mannaggia Enzo dai eccolo è apparso come dice Francesco dobbiamo prenderlo mentre appare dai Minion salta di addosso no ormai sei andato la prossima volta che appare lo prendiamo si va bene eccolo adesso ok adesso devo dirlo Franco e Francesco l'abbiamo sconfitto l'abbiamo sconfitto il nostro piano sta funzionando noi le indeboliamo e voi li sconfiggiamo yeee allora capo ti devo dire allora capo ti dobbiamo dire una cosa stanno sconfiggendo tutti i nostri amici oh no ci servono più amici adesso andiamo tutti e tre così lo sconfiggeremo di sicuro no aspetta 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 così l'episodio finirà prima tu vai all'ultimo capo qua dai su forza ok adesso dove dobbiamo andare sempre più su sempre più su stiamo quasi arrivando mandano due stanze e ora siamo arrivati ok e ora dobbiamo andare i fantasmi adorati si questi se riusciamo a prendere ci daranno tante vite si adesso andiamo ragazzi dividiamoci come prima ok siamo arrivati ok dividiamoci va bene va bene ok adesso andiamo come prima noi li indeboliamo e voi li catturati li sconfiggete ok mamma come sono veloci questi sono troppo veloci la prossima volta che passa però riuscirò a prendervi chissà che sta facendo darwin però vabbè fa niente ebboli si presi 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 ci sono scappati di nuovo ma adesso sono deboli e quindi i nostri amici potranno sconfiggerni ok allora dove sono questi vuoi andarmi oh guarda è caduto il portal guys di nuovo oh oh li ho visti li ho visti come appaiono la prossima volta video salta qui addosso va bene eh 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 ah 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 ce l'abbiamo fatta abbiamo sconfitto anche loro ricordiamo dai nostri amici non ci avete ancora sconfitto ci dovete mettere nel portal guys no il portal guys no no ok andiamo a dirlo a Franco e Francesco Franco Francesco Franco Francesco ditemi ce l'avete fatto a sconfiggerni? si meno male e adesso ce ne resta solo uno e così potremmo uscire si finalmente sono da 28 minuti che sto in questo gioco ok ragazzi questo è l'ultimo ovvero lo affronteremo tutti insieme lo scelto e sarò molto dura lo affronteremo tutti insieme così saremo più forti con Darwin che è là fuori ah ah Darwin ci darà una mano da fuori ok dividiamoci sei pronto Darwin? si sono pronto andiamo saliamo ancora e ancora e ancora e ancora ecco siamo arrivati questa è la fine che dobbiamo sconfiggere solo lui e finalmente usciremo da quella porta voi avete smarmellato il mio piano ma io adesso ucciderò voi e adesso è arrivato il momento di ammazzarvi non ci riuscirai mai perché noi siamo di più e siamo più forti ah siete più forti eh mi credete i migliori siete vanitosi noi non siamo vanitosi abbiamo la forza dell'amicizia che ci unisce sì aspetta che sputo francesco ok ah ok adesso ci divertiamo giusto? sì sì ok dai francesco vai col portergeist ah un semplice portergeist potrebbe battermi? no però la forza dell'amore dell'amicizia sì vai clarence colpo de piene adesso tocca a me a te minion colpo di palla aia 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 bambino magico vai tu con i tuoi superpoteri azzarat mitrion harry potter che schifo dei serpenti in faccia hai prevedito questo? penso un gaccio volante e adesso tocca a noi prendiamolo francesco che ormai è debole lo mettiamo nel portergeist ok toros ce l'abbiamo fatta ragazzi aspetta dei semplici colpi mi possono mi possono fermare? non avete ancora capito che sono il re? eh ma ti abbiamo dato tanti di quei colpi che la tua energia sta per finire io non sono debole io sono tu sei sconfitto no non sono sconfitto io sono la sorella di quella tizia che fa visualizzazioni su tiktok avevo tutto il giorno per fare una battuta del genere dai mettiamolo nel portergeist io metterò nel portergeist voi prima tu palla poi vuoi due no dai tu ragazzi mettiamolo nel portergeist e usciamo da questo gioco sì colcio calcio calcio dell'amore mi sono fatto male lo abbiamo sconfitto dai mettiamolo di là insieme agli altri passati no per favore fanno tutto quello che volete basta che non mi mettete dentro il porter dai via oh e finalmente adesso possiamo uscire sì allora dai dai premi il tasto di set tre oh finalmente siamo usciti da questo gioco aspetta ragazzi è stata un'avventura incredibile papà posso farti una domanda ma dove siamo finiti siamo a casa finalmente ciao ragazzi finalmente siete usciti ma ciao avevo tanto paura per voi io ero al computer e mi vedevo mentre combattavate siete stati degli eroi sì bravissimi tutti sì sì ma che fino ha fatto il portalgeist è rimasto nell'altro nel videogioco no sì e finalmente viveremo tante altre avventure ok ciao 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 ciao